Va alla G-Group la vittoria della partita numero 10 tra Monza e Padova, una partita che ha visto i Veneti annebbiati in tutti e tre i set, giocando a sprazzi e commettendo troppe ingenuità. Monza ne ha approfittato pur non giocando un match di altissimo livello, sfruttando bene la difesa e il servizio, loro punti di forza. Nel primo set i bianconeri scendono in campo con Orduna al palleggio, Giannotti opposto, Kuckeberger in banda, Volpato e Averil al centro, Balaso libero. Inizio difficile per i Veneti, che sbagliano per due volte il servizio e subiscono l'Ace di Renan per il provvisorio 5-2. I patavini sono fallosi in diverse situazioni e faticano a recuperare. Si va così al time-out tecnico sul 12-18. A questo punto sale in cattedra Berger e complice a un muro di Volpato e qualche errore di troppo dei padroni di casa, la Donazzo torna in parità sul 13-13, per poi superare gli avversari sul 17-21 e farsi poi recuperare 21-22. Coach Baldovin fa entrare Milan per un Giannotti in netta difficoltà. Il punto del 22-22 è contestatissimo dai bianconeri per un tocco del muro ravvisato dal secondo arbitro. Questo fa perdere l'equilibrio ai patavini, che subiscono il 22-24. Il neoentrato Chiroga porta il sette ai vantaggi, ma Renan trascina i suoi verso il 28-26 finale. Il secondo sette inizia ancora con Milan in campo per Giannotti. La Tonazzo sembra non aver accusato il colpo. Cucca e Volpato sono tra i più positivi in attacco, tanto che i bianconeri sono avanti 13-16 prima di tirare il freno a mano. Monza sfrutta l'opportunità e si arriva in parità sul 16-16. Sul 20-16 rientra in campo Giannotti e Diamantini rivela un Averil in giornata non brillante. Il finale non riserva sorprese e termina 25-22. Dopo la pausa di 10 minuti, Padova ricomincia come aveva finito, ossia molto fallosa. Monza difende l'impossibile e questo le consente di andare al time-out sul punteggio di 12-8, prima di chiudere 25-21 con la diagonale vincente di botto. E ora la testa è già proiettata a Milano, dove mercoledì sera la Tonazzo dovrà cercare di conquistare punti preziosi.